Fedez, il famoso rapper italiano, sta per fare il suo ritorno trionfale a decimo factor dopo un periodo di preoccupazione per la sua salute. Nel bel mezzo delle preparazioni per il talent show, Fedez ha annunciato il suo ritorno con entusiasmo, dichiarando che oggi ha ottenuto il certificato medico che gli permetterà di partecipare. Non solo sta meglio, ma ha anche promesso ai suoi fan che tornerà ad allenarsi dalla prossima settimana. Nel frattempo, il pubblico può aspettarsi una puntata emozionante di Home Visit, già registrata. In cui ogni giudice dovrà selezionare solo tre concorrenti dalla propria squadra iniziale di cinque. Il palco è pronto per dodici talentuosi concorrenti che si sfideranno nella prima puntata dei live, come da tradizione. Ma la storia di Fedez non finisce qui. Ha celebrato il suo 34esimo compleanno in un modo davvero speciale, partecipando a un concerto dei Blink 182 a Manchester. Questo concerto ha avuto un significato particolare per lui, in quanto ha sviluppato un legame con il leader della band, Mark Hoppes, che ha lottato contro il cancro. Questo compleanno è stato davvero un cerchio che si è chiuso per Fedez, un momento indimenticabile. Ora, con la sua salute di nuovo a posto e il suo spirito rinforzato, Fedez è pronto a tornare in pista come giudice di Decimo Factor, promettendo emozioni e talento insieme ai suoi colleghi giudici. Non vediamo l'ora di vedere cosa in serbo per noi e per i talentuosi concorrenti di Decimo Factor. Che lo spettacolo abbia inizio!